Se avessi una telecamera a tv a disposizione, a chi faresti gli auguri di Natale? Abbiamo provato l'esperimento in strada, ecco cosa hanno risposto i cittadini. A tutti quanti le persone che hanno bisogno, e specialmente a quelle che non hanno lavoro, che trovano un lavoro e che passano un anno in tranquillità, in pace e serenità. A tutti i familiari. Cosa gli direbbe? Che con questo Natale venga un anno nuovo con tanta felicità, tanta senerità e tanta pace. A persone care, a mia moglie innanzitutto e ai figli. Cosa gli direbbe? Auguri ai figli per un futuro pieno di speranze, diciamo. E a mia moglie saluta, tanta saluta. A Renzi. E cosa gli direbbe? E dovrebbe invece cominciare un po' con l'Italia. A mio figlio, a mio riposo e a mio amore. Cosa gli direbbe? Tanto auguro a buon anno. Al Papa e basta. E cosa gli direbbe? Che lo voglio bene, vorrei morire io e non lui. Gli auguri di Natale li faccio a tutti, ai belli, ai brutti, ai buoni e ai cattivi che diventeranno buoni. A mia madre. Cosa le direbbe? E di stare a vivere cent'anni, se è possibile.